Non c'è pace per la casa Pia di Arezzo, dove purtroppo il focolaio continua ad estendersi. Un ospite ha infatti mostrato alcuni sintomi e la direzione della struttura ha posto la persona in isolamento e ha immediatamente allertato il 118 che ha trasportato l'anziano in ospedale. Qui è stato subito eseguito il tampone che ha dato esito positivo. Sale così a 57 il numero totale di contagiati, 39 anziani e 18 operatori sociosanitari. Intanto venerdì si sono concluse le operazioni di trasferimento degli ospiti contagiati nelle strutture di cure intermedie dell'ASL. Contestualmente è stato anche eseguito un nuovo ciclo di tamponi molecolari ai residenti risultati negativi negli ultimi test di domenica 31 gennaio. La stessa azienda sanitaria infine ha predisposto per lunedì 8 febbraio un nuovo controllo per i dipendenti rimasti operativi all'interno dell'istituto mentre restano in isolamento domiciliare i restanti 15 operatori sociosanitari che erano risultati positivi nel corso dell'ultimo screening.